in questa lunga corsa della maratona sulle fonti tv per l'otto marzo non potevo non interpellare una collega peraltro una grande collega un nome un volto che tutti voi sicuramente conoscerete per parlare del mondo della comunicazione perché perché naturalmente il cambiamento i processi di cambiamento passano dalla comunicazione dal modo di divulgare le notizie io spesso lo dico ma penso che sia abbastanza scontato appartengo a una categoria privilegiata perché abbiamo la possibilità di leggere in anteprima delle notizie poi di appunto divulgarle di raccontarla a tutti voi e questo però anche un compito molto gravoso molto importante che richiede tantissima tantissima attenzione ma soprattutto etica e deontologia perché bisogna cercare di anzi cercare bisogna farlo divulgare le notizie nel modo più corretto possibile è un grande potere ma una grande responsabilità e allora quando si parla di diritti ancora di più questo potere diventa enorme il potere di raccontare quello che sta accadendo questo questa grande premessa larga premessa mi serve per introdurre appunto candida morvillo che è con me sono molto contenta che sia una delle protagoniste della nostra maratona giornalista scrittrice ma tanto altro insomma poi ripercorreremo anche la sua carriera candida ben trovata buonasera buonasera a tutti grazie e grazie per la disponibilità naturalmente in una giornata così importante non solo per le donne credo e qui ti lancio insomma l'assist ma per tutta la società un tuo pensiero per l'otto marzo il mio pensiero per l'otto marzo come dici tu va non solo alle donne ma anche agli uomini perché tutto il percorso di parità che serve alle donne non non riuscirà mai ad essere realizzato se non viene condiviso anche dagli uomini quindi il mio pensiero va all'auspicio di una collaborazione sempre sempre più forte per in modo che tutti riescano a dare il loro contributo alla parità ecco e non solo nel diciamo nel nel mondo occidentale ma insomma anche in tanti altri posti dove vediamo che per esempio in questo momento le donne sono quelle che pagano il prezzo più alto magari di guerre fatte dagli uomini sì 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 ecco il discorso assolutamente più complesso anche per questo e infatti diciamo che il titolo che vediamo in sovrimpressione per questa parte diretta riporta la parola mentalità io e noi ci riferiamo naturalmente in questo contesto alla nostra mentalità italiana però il tema delle donne della parità di genere diventa ancora più complicato per le diverse culture no che ci sono per le diverse mentalità quindi che purtroppo creano ulteriori disparità nelle varie parti del mondo grazie candida questo è un punto che andava andava sottolineato e ti ringrazio di averlo fatto subito in apertura soprattutto anche poi il tema uomini donne non ci deve essere differenza perché altrimenti se continuiamo a parlare tra di noi donne l'argomento viene affrontato solo dalle donne diventa un modo per ghettizzarci no nel senso che ci mettiamo sotto una campana di vetro e siamo e saremmo noi le prime a differenziarci dal resto della della comunità no questo è un po ecco a proposito di mentalità l'errore che si continua a fare partiamo da qui sei d'accordo ma io sono d'accordo perché il rischio di questa fase è quello di creare una guerra dei sessi non solo noi che ci ghettizziamo ma anche gli uomini che si arroccano sulla difensiva perché oggi sicuramente è in qualche modo di moda lo metto fra virgolette parlare di empowerment femminile parlare di parità e a volte quando questo viene fatto con aggressività gli uomini finiscono per diciamo avere la reazione la reazione più sbagliata cioè quella di sentirsi messi all'angolo quindi io credo che tutto il lavoro che c'è da fare sulla parità vada fatto con diciamo con accoglienza con dolcezza con insomma senza diciamo senza proprio esasperare quella che rischia diventare di diventare una guerra che non serve a nessuno esattamente candida insomma al punto è proprio questo ma tu noti dei cambiamenti visto che parliamo di mentalità e sappiamo molto bene che il retaggio culturale è l'ostacolo più difficile da superare insomma ma stiamo facendo passi avanti secondo te è una lenta marcia più lenta di quanto dovrebbe essere però è una marcia che procede si vede si vede anche nel mondo della comunicazione dove ci sono sempre più firme femminili donne che sono direttori e io lo vedo soprattutto tra i ragazzi tra le nuove generazioni gli adolescenti veramente non fanno differenza tra uomini e donne pensano che insomma tutti possano avere le stesse possibilità e debbano averle certo certo beh tu peraltro sei stata direttrice del settimanale di cronaca rosa novella 2000 ai tempi era diversa la situazione nel senso che non sono passati tantissimi anni però sappiamo molto bene come dei passi avanti siano stati fatti proprio recentemente no l'hai detto tu stessa adesso sono molto di più le donne che dirigono giornali riviste quotidiani insomma ecco si potrebbe fare di più ma insomma c'è sempre speranza poi ci arriviamo anche all'auspicio per il futuro e appunto noti proprio differenza quindi mi pare di capire guarda io sono stata diciamo in qualche modo fortunata perché gran parte della mia carriera soprattutto all'inizio dei primi vent'anni l'ho fatta nei periodici e nei periodici tanti settimanali tanti mensili erano sono stati storicamente diretti da donne perché soprattutto i settimanali femminili che comunque hanno portato avanti anche battaglie femministe negli anni 70 e hanno veramente contribuito a cambiare la storia del costume erano diretti da donne quindi essere donna diciamo nei periodici e direttore non era qualcosa di così bizzarro quando è successo ormai parecchi anni fa era il 2008 però da allora da quel 2008 tante cose sono successe nei giornali per esempio al corriere della sera dove io adesso lavoro abbiamo ben due vice direttori donna abbiamo avuto quindi prima il direttore barbara stefanelli adesso abbiamo anche fiorenza tarzanini ed è importante e si vede sul giornale un uno sguardo la presenza di uno sguardo anche femminile perché comunque uno sguardo diverso certo tematiche su argomenti che ecco che sono ecco che magari ecco gli uomini trascurerebbero perché comunque siamo tutti capaci siamo tutti bravi uomini e donne però diciamo per fortuna abbiamo diciamo abbiamo una capacità abbiamo capacità di visioni diverse quindi diciamo questo è stato sicuramente un valore aggiunto dentro l'informazione assolutamente sì abbiamo parlato anche nel corso di questa maratona del fatto che spesso siamo noi che come dire uso ancora questa espressione che ho usato più volte ma insomma rende l'idea che ci trappiamo le ali da soli nel senso che la domanda di base è se era il tuo sogno nel cassetto quello di diventare giornalista scrittrice comunque una donna che lavorasse nel mondo della comunicazione e se in qualche modo c'è stato qualcosa che invece in certi momenti ti ha fatto un po arretrare no perché appunto abbiamo detto spesso ci diciamo no forse non è il mondo che fa per me forse non è un mondo per donne appunto visto che stiamo parlando di di 8 marzo ti è mai capitato e hai sempre voluto fare questo lavoro io volevo fare questo lavoro fin da bambina facevo alle scuole elementari telegiornali piazzandomi davanti alla lavagna e scrivevo romanzetti volevo fare la scrittrice e la giornalista l'ho sempre saputo proprio con grande determinazione vivevo in un piccolo paesino metà di sorrento insomma dove i giornali erano qualcosa di lontanissimo ma insomma a 18 anni già scrivevo sul giornalino locale a 20 ero iscritta all'albo dei pubblicisti a 21 entrambo in una grande scuola di giornalismo ai tempi ce n'erano solo cinque in italia che davano il praticantato insomma prendevano 100 ragazzi ogni biennio quindi io volevo fare quello lo volevo fare a milano che era la città dell'editoria e ho avuto la fortuna di avere una vocazione cosa che non a tutti i giovani capita non credo di essere stata diciamo non mi sono mai sentita discriminata come donna semmai un po all'inizio quando lavorava a livello locale quindi in questo piccolo paesino del sud e magari arrivava alla giovanissima giornalista donna dall'anziano politico dal grande diciamo imprenditore erano gli anni di tangentopoli e quindi io sentivo di essere presa poco sul serio poi quando uscivano gli articoli ecco magari si arrabbiavano ancora di più perché ti avevano sottovalutata certo e devo dire che era molto divertente anche per questo cioè comunque diciamo riuscire a stupire quelli che erano scettici e diffidenti è stata alla fine una diciamo uno stimolo in più per fare bene sì poi appunto visto che quando parliamo di te parliamo di comunicazione insomma completa sappiamo anche bene che a livello televisivo si sente ancora di più no questa discriminazione ma perché perché se si è giovani se si è donne se si è carine si si è viste un po come le vallette senza nulla cioè non c'è nulla di male fare la valletta perché poi anche qui sembra quasi un peccato fare la valletta però sono due lavori diversi appunto però si è sempre un po confuse no come ruolo o meglio se si vuole confondere il ruolo perché poi si sa benissimo che sono due professioni assolutamente diverse cosa ti ha dato milano perché poi tu ne parli spesso no tu sei appunto hai deciso proprio perché hai avuto sempre questa passione ti sei trasferita a milano che cos'è milano per te se posso chiederti ma milano come dicevo prima per me era la città dell'editoria e la città delle opportunità e la città del merito cosa che erano tutte cose che da un piccolo paesino dove venivo io insomma non avevano non avevano una patria e quindi ecco milano mi ha dato tantissimo da questo punto di vista se mi consenti solo di aggiungere qualcosa a quello che hai detto su donne televisione sì certo io ho notato ti faccio solo un piccolo esempio cioè festival di sanremo quest'anno visto da 12 milioni di telespettatori massimo picco di ascolto e c'erano tutte le doce le donne che erano coetanee di amadeus e fiorello e loro erano sembrava che non avessero una ruga erano truccatissime elegantissime eccetera poi inquadravano amadeus e vedevi che era uno che se ne fregava che gli fossero venute le rughe ecco anche questa è una differenza cioè alla fine le donne in televisione devono essere sempre perfette sempre sembrare giovani sconfiggere l'età e gli uomini gli uomini anche no cioè spesso non sono neanche degli uomini e comunque non se ne importa niente se si vede la ruga questo racconta tante cose no no assolutamente beh esatto ma questo perdonami avviene anche nella vita normale cioè le donne devono essere sempre allora il tacco perché se si mettono la ballerina non sono attraenti invece l'uomo può anche magari andare in giro in ciabatte anche no eh io dico perdonatemi perché è la stessa cosa vale la stessa regola se proprio proprio dobbiamo mettere i puntini sulle i però è un po' una esatto anche qui c'è una diversità proprio di considerazione no si chiede sempre di più e così almeno facciamo un passo avanti candida però si hanno meno le donne no a partire da stipendi considerazione eh sono spesso considerate meno autorevoli solo perché sono donne si guardano con sospetto non tutti ovviamente adesso io parlo eh in generale poi è vero che le generalizzazioni non fanno mai bene ma se ancora oggi siamo qui a parlare di parità di diritti vuol dire che evidentemente qualche pecca ce l'abbiamo quindi eh ecco eh che cosa che cosa stiamo sbagliando secondo te e che cosa bisognerebbe fare invece sia a livello legislativo a livello poi culturale ecco eh facciamo un discorso di insieme a livello legislativo moltissimo perché cioè veramente quando per esempio parliamo di donne che hanno il primo figlio tardissimo sappiamo eh dopo i trentadue anni sappiamo ecco è perché quelle donne eh diciamo non vengono aiutate e quindi non ci sono gli asili nido ormai siamo pieni di contratti eh nei quali quella che era la maternità una l'indennità di maternità eh è stata completa che è una grande conquista femminile è stata completamente dimenticata quindi eh sono donne che non vengono aiutate a livello legislativo non vengono aiutate però neanche all'interno delle aziende che comunque potrebbero supplire venendo incontro alle esigenze delle donne delle giovani mamme e poi credo che molto vada come dicevamo fatto anche come cambio di mentalità perché comunque poi le donne che hanno ruoli diciamo dirigenziali eh sono sempre meno degli uomini i gruppi eh di comando eh sono spesso in tanti settori ancora chiusi e formati solo da uomini quindi diventa difficile eh anche solo accorgersi che ci sono le donne aprirsi alla possibilità di uno sguardo di una sensibilità diversa che invece sarebbe un arricchimento sicuramente è un arricchimento per qualunque attività ma arriveremo un giorno in cui non ci sarà la famosa e fatidica scelta da fare eh le scelte fanno parte della vita questo è chiaro non si può avere tutto dalla vita dirò cose molto banali ma è così tanto per non fare ancora più retorica di quello che magari si rischia di fare quando si affrontano questi argomenti però le scelte di cui spesso eh a cui spesso siamo costrette eh cioè quando dobbiamo scegliere tra casa e famiglia lavoro ecco quelle sono scelte invece penalizzanti proprio per noi stesse perché eh mettiamo da parte sotteriamo totalmente le nostre passioni i nostri desideri appunto non a caso ti ho chiesto se era un po' il tuo sogno nel cassetto quello di fare questo questo lavoro eh e quindi adesso io non voglio chiederti se ti sei mai se sei mai stata costretta a scegliere perché sono cose personali ci mancherebbe però un po' lo facciamo tutte no ogni giorno guarda io non ho avuto non ho avuto figli eh perché insomma è andata così e guardo sempre eh tutte le mie amiche e colleghe che ne hanno e mi domando ma come fanno eh cioè io ho da badare a me stessa e insomma mi sembra sempre di non farcela di non avere abbastanza tempo di non avere ehm insomma di non riuscire a far tutto quando vedo eh le donne che sono anche mamme che hanno una famiglia ecco quelle sono veramente delle eroine tu mi chiedi se arriveremo al punto in cui le donne non eh non dovranno fare non affrontare il dilemma eh insomma famiglia o lavoro figli o carriera credo che sì ci potremmo arrivare se eh la politica e le aziende aiuteranno le donne e ci potremmo arrivare quando eh le giovani coppie saranno formate insomma quella generazione di cui ti parlavo prima che sono oggi eh insomma i quindicenni i ventenni e che veramente eh ragionano ragionano in termini paritari adesso noi magari abbiamo eh il congedo di paternità per certi papà che lo prendono ma insomma sembra quasi una gita in cui per un po' di tempo stanno a casa e si occupano loro dei bambini in realtà si tratta insomma condividere eh le responsabilità extra lavorative all'interno della famiglia è qualcosa che ognuno dei due fa ogni istante veramente momento per momento e qui serve un cambio di mentalità certo assolutamente beh tanto per citare il titolo di un tuo romanzo le stelle non sono lontane speriamo no che davvero appunto perché poi le stelle sono associate ai desideri e quindi speriamo che insomma questo questo sia questo sia possibile eh peraltro tu hai aiutato in conclusione prima di salutarti però ci tengo perché la comunicazione come detto è importantissima tu hai aiutato anche tanti giovani proprio a realizzare appunto proprio dei desideri e di sogni alla realizzare i loro i loro sogni no uomini e donne indistintamente che volevano riuscire in questo lavoro e ce l'hanno fatta guarda io sono stata fortunata perché ho cominciato a lavorare presto eh in tempi in cui insomma l'informazione era ancora era più sana di oggi quindi ho avuto la fortuna eh diciamo di fare di fare carriera in tempi in cui si potevano ancora sostenere i giovani e quindi oggi non è più così quindi ti scusami ti interrompo oggi oggi purtroppo non è più così perché il nostro è un mercato che ha pochi sbocchi eh però ecco per esempio proprio in questa settimana io sono veramente molto molto felice perché tra ehm nel piccolo gruppo di giovani che selezionai da direttore pescai una ragazzina giovane entusiasta eccetera e sentì subito che avrebbe fatto qualcosa di bello in questo messere e lei è appena diventata direttore si chiama Lavinia Farnese quindi io questa settimana ho ricevuto il primo numero del suo Cosmopolitan e devo dire che è stata una grandissima soddisfazione. Che meraviglia eh beh che meraviglia sì beh eh poi anche qui cos'è almeno cioè anche qui facciamo tutto un collegamento tu sicuramente hai riconosciuto il talento e questa è la cosa fondamentale sei stata anche supportata evidentemente da un'azienda da azienda che ti hanno permesso di eh decidere no? E di di cioè di darti la possibilità di scegliere effettivamente persone che eh avessero merito perché poi anche lì non sempre si ha la possibilità quindi questo è un po' un appello anche generale per le istituzioni abbiamo parlato prima del lato legislativo ma anche per le imprese per le aziende cioè non è è comodo solo dire no? Sì noi siamo per la bisogna fare cose per essere virtuosi. tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare ma speriamo che questo mare sia sempre più più sottile che ci sia sempre meno acqua insomma no? In tutto questo. Mi associo insomma a quello che stavi dicendo. Concludi pure tu la chiusa e poi ti saluto. Canita ti lascio alla tua serata perché ti ringrazio molto per averci dedicato il tuo tempo. Guarda anch'io mi auguro che questo mare sia sempre più piccolo da percorrere. con bracciate sempre più semplici. Una cosa ci tengo a dire quando perché insomma mi hai fatto venire in mente quei ragazzi maschi e femmine giovanissimi che sono risultati tutti bravissimi insomma tutti lavorano. però una cosa avevano in più le ragazze cioè hanno fatto una rete pazzesca cioè sono sono state molto brave ad aiutarsi a vicenda ad essere insomma praticamente una famiglia. insomma insomma e questo io auguro alle donne insomma in questa giornata di riconoscerti e di sostenerti. Ottimo e allora io mi fermo qui perché non non si potrebbe dire cosa migliore. Grazie Candida Morvillo. Io mi auguro di risentirti presto soprattutto sulle fonti tv per affrontare altri temi che stanno cuore a tutti. intanto grazie per aver partecipato alla nostra maratona. Grazie a voi. Buona serata. Grazie. Buona serata. Buonanotte per chi sta andando a dormire. Insomma ci rendiamo conto che il tempo è molto dilatato in questo 8 marzo però è quello che vogliamo e quindi noi continuiamo naturalmente. Buonanotte per chi sta andando a dormire.